Musica Mercoledì 25 maggio cari amici telespettatori ben ritrovati con informazioni di Molise TV. Come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto 16 milioni e mezzo il danno della maxitruffa ordita ai danni dell'Inps da più di 500 persone fittiziamente residenti in Italia che avrebbero percepito in modo in debito l'assegno sociale erogato dall'ente previdenziale. E poi partecipato l'incontro denominato 080 svoltosi presso le sale dello spazio 180 alcuni dei candidati sindaci del comune di Isernia si sono pronunciati in merito alla realizzazione dell'ultimo tratto della superstrada Isernia-Castel di Sangro. Nel taglio basso all'Unimol svoltasi la conclusione di un ciclo di seminari dal nome Testimonianza. Le aziende entrano in aula, obiettivo portare nelle aule testimonianze ed esempi del mondo produttivo e imprenditoriale. Presimiamo adesso il nostro appuntamento, leggiamo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto Iorio, io il più intercettato d'Italia, conferenza stampa al vetriolo dell'ex governatore, giustizia, orologeria. Non si è fatta attendere la risposta dell'ex governatore Michele Iorio dopo la nuova attegola giudiziaria nei suoi confronti relativa all'accusa per falsità ideologica e falsità materiale riguardo a presunte irregolarità contabili nel patto di stabilità del 2010 e del 2011. C'è una persecuzione giudiziaria nei miei confronti, ha detto Iorio. È indagato per falsità ideologica e materiale per presunte irregolarità contabili nel patto di stabilità 2010-2011. Nel taglio alto, fusione Cardarelli-Cattolica-Sanità-Movimento 5 Stelle all'attacco-Frattura-Replica hanno preso un'altra cantonata e due consiglieri del Movimento 5 Stelle dicono che l'avvocatura regionale smentisce Frattura, ma il governatore Replica andassero a leggersi le carte. Patto per il Molise aspettando Renzi. Nel frattempo arriva l'ok dalla Giunta, mentre si aspetta la firma del Premier, l'esecutivo di Palazzo Vitale dà il disco verde al patto per il Molise. L'intesa verrà trasmessa anche al Consiglio regionale. E poi, isernia verso le comunali, il ministro Cossa sostiene i tedeschi oggi in visita per promuovere la candidatura. E ancora il polmone verde di Termoli deve tornare a respirare. Nel taglio basso rendi conto Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio agli sgoccioli, consegnata ai consiglieri la notifica del prefetto di Campobasso. Passiamo adesso allo sport, Serie D, Lupi e Aliberti pronto a sbarcare ufficialmente nel capoluogo di regione. L'intervista De Bellis, un errore smembrare il giocattolo a dicembre, è ancora eccellenza. Play-off, il Venafro ospita il Castro Villari e cerca il colpo. Continuiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie di Primo Piano Molise. In risalto troviamo sempre Iorio contro di me, una persecuzione giudiziaria all'ex governatore Sbotta. Sono l'uomo più intercettato di tale, eppure non ho mai preso tangenti, ho una casa al mare acquistata con un mutuo e non possedgo conti all'estero né partecipazioni societarie. La replica scusate alla procura, che lo accusa di aver falsificato gli atti per nascondere lo sforamento del patto di stabilità. Nel taglio alto da Palazzo Vitale e Masterplan del Molise, la giunta prova l'intesa. E poi l'integrazione cattolica Cardarelli, Movimento 5 Stelle, l'avvocatura smentisce il PD, la fondazione resta privata. E ancora al ricordo di Giovanni Falcone, il copia e incolla colpisce pure il comune di Campomarino. In occasione del 24esimo anniversario della morte del giudice, Giovanni Falcone e il comune di Campomarino ha voluto rendergli omaggio, copiando quasi interamente il contributo che gli ha reso il comune di Cinisello Balsamo e rimediando una figuraccia. Elezioni a Isernia, il ministro Costa per sostenere i tedeschi, è pestato sul corso di Termoli, giovane ricoverato al Santimoteo. Nel taglio basso, bilancio di previsione consuntivo tardano nel capoluogo di regione, il prefatto di Menna diffida l'amministrazione. Proseguiamo con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto, furto fallito al bar tabaccheria di Via Dalmazia, ladri ripresi dalle telecamere. Vediamo adesso le notizie sportive. Un ex petacciato era l'intermediario dei clan, truccate due gare dell'Avellino, ruolo chiave per Luca Pini, le mani della camorra sulla Serie B. E poi Serie D, Campobasso, si attende il nuovo organigramma per conoscere le mosse per il futuro. E ancora eccellenza, il Venafro prova a ribaltare il K.O. di Castro Villari, Capaccione perde Pettrone. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto Sanità, l'avvocatura smentisce Frattura e Company. E poi Frattura, ulteriore imbarazzante e cantonata del Movimento 5 Stelle molisano. E Restart Innovation, una giornata dedicata alla green economy e alle start-up. 25 maggio 2016, giornata mondiale, sclerosi multipla. E ancora il Consiglio Comunale dei Bambini incontra il Consiglio Comunale dei Grandi. Parco Comunale di Termoli, Amministrazione e Teramo Ambiente presentano il progetto. E poi il Centro di Consulenza Specialistica Pediatrica. Si rinnova la collaborazione tra Comune e Ospedale Bambin Gesù di Roma. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. E vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con pensioni, così la riforma. Disgelo governo sindacati, sia la flessibilità. Renzi promette più soldi alle minime. Il Premier, i candidati in Movimento 5 Stelle, manovrati napolitano, lega xenofoba. Insulti da Salvini. E poi flotta dell'Unione Europea e Libia contro gli scafisti. Il Capo della Missione, così sconfiggeremo i trafficanti d'uomini. Preseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. In risalto, Rai, il sì, marcia a reti unificate per il no, un minuto in tutto. Pace, il Presidente del Comitato, solo un breve intervento al Tg3. Poi più nulla, il Premier chiama la battaglia istituzionale, mille professori e flop su Pop Vicenza. Unicredit caccia l'amministratore delegato. Dimissioni, ora servono 5-7 miliardi. Nel taglio alto, Montalbano contro i razzisti. I migranti non sono l'Isis. Il commissario affronta la lotta agli scafisti. Andiamo adesso avanti con le notizie di Libero. In risalto, cassa disintegrazione. Che guaio! Dal 1980 a oggi la CGL è costata 56 miliardi. I collaboratori disoccupati rimasti a carico dell'ente anche per 10 anni. In Renzi aumenteremo gli assegni di 80 euro, ma il governo ha un piano per tagliarli del 12%. Devorati i soldi dei pensionati. Altro palazzo IMSS usato per le feste. Cosa c'è poi da festeggiare? Il quesito di Libero nel taglio basso. Anche i verdi si incazzano. Più soldati al Brennero, l'Austria rinforza il muro anti-immigrati e chi agonia la Grecia in crisi. Per occhi la tortura è peggio. Perfino l'FMI dice alla Merkel basta. Vediamo adesso insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. Pensioni e aiuti alle minime, uscite flessibili. Allo studio anche il riscatto leggero della laurea. Clima più disteso con i sindacati. Martedì incontro a Palazzo Chigi. Interventi in vista anche a favore dei lavori usuranti. Il premier, chi lascia in anticipo, deve rinunciare a qualcosa. Ciliegie distrutte. Sindaci del Barese battono cassa. De Caro chiama il ministro. Nel taglio alto Bari, allarme e malavita per la festa di Palese. Terminiamo inflazioni alla Stella Maris. La Sagra a luglio, il comitato si mobilita. Il giallo dell'impiegato scomparso a Monopoli si allunga all'ombra dell'omicidio suicidio. Un altro uomo si è ucciso sotto un treno e due casi sembrano collegati. Nel taglio basso Bari in campo stasera o la va o la spacca. Al San Nicola con Novara in gioco, la semifinale play-off. Continuiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie di avvenire. In risalto sgomberati al via all'esodo forzato dai domeni incognite sul destino dei migranti. In 9.000 profughi saranno quelli che andranno in centri del nord della Grecia. Al Brenner 80 agenti austriaci, altri arrivati in Italia, 3.000 salvati in mare. Famiglia, ecco la prova. Il buon aiuto funziona. 10 anni di sostegno sulle nascite, meno separazioni. Passiamo adesso allo sport e vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con Berardi alla Juve. Pronti 25 milioni per il talento del Sassuolo e Quadrado resta. Napoli, Vsralco dopo Tonelli in arrivo all'esterno destro. La chiusura è imminente. Touré per l'Inter. E ancora Milik vede giallorosso. Siamo in contatto. Ancora sport. Vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta Sportiva. Una signora Italia, Conte, raduna il blocco storico bianco-nero. Voglio una nazionale come la mia prima Juve, retroscena. Il CT lancia il patto per l'Europeo. E nel taglio alto il lampo di Valverde, Nibali, l'ora più dura. E con questo è veramente tutto. Grazie come sempre per l'attenzione. Vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 25 maggio. Un nuovo deciso rinforzo di un campo anticiclonico darà inizio ad un periodo nettamente più stabile e generalmente soleggiato sulle regioni di sud-est. Ne consegue una giornata all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso su Puglia, Basilicata e Molise con temperature in aumento. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 23 gradi. Isernia minima 10, massima 21 gradi. Termoni temperature comprese tra i 15 e i 20 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. Acconsegli assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.